Professore, l'altro nocciolo è che bisogna fare presto per vaccinare. Jacopo Arbarello? Sì, parla la sottosegretaria della salute e di questo parla. Dice, priorità i richiami adesso, poi inietteremo dosi fino a 18 ore, dovremo correre. Le regioni, dice la sottosegretaria, dovranno aumentare i luoghi di vaccinazione, ma anche gli orari. L'obiettivo è possibile. Sono certa che il piano funzionerà, così riprenderemo la nostra vita. Questo ovviamente se non intervengono le varianti sudafricana e brasiliana. Professore, che target abbiamo di percentuale per considerarci, diciamo, piuttosto al sicuro? Guardi, su questa variante, questa che in questo momento circola e prevalente in Italia, è intorno al 60% di protetti, non di vaccinati, che è una cosa diversa. Quindi probabilmente al 70% di vaccinati. Per quanto riguarda invece la variante inglese, probabilmente tra il 75 e l'80%. Quindi per difenderci servirebbero intorno all'80% delle persone vaccinate? Per stare tranquilli anche contro la possibile variante inglese, sì. Ottimo. Professore, la ringrazio molto. Grazie al professor Crisanti, direttore del Dipartimento di Microbiologia. Ringrazio anche Jacopo Barbarello. Non so se abbiamo il tempo ancora per le previsioni meteo, chiedo a Marco Gentiloni, mi dice di no. Siamo in chiusura, giusto? Sì. Professore, grazie molte. Grazie, buona giornata, buon lavoro.